Comunque è molto meglio lui rispetto all'allenatore dell'Ipsia. È stato un altro Paris Saint-Germain quello di ieri sera, Sandro. Siamo in vena di battute. Solo un caso, solo un caso che ci fossero Di Maria Mbappé dall'inizio. Di Maria Mbappé e Neymar sono sicuramente il tridente titolare in questo momento, si mette ancora in pace i carni. Se poi siamo in vena anche di battute, faccio una battuta anche su Neymar, che pure mi era piaciuto ma non da essere il migliore in campo nella partita precedente, ieri invece è stato molto continuo e secondo me Neymar, lo dico con un pizzico di malizia, spero che non sorprenda nessuno, se sta una settimana in ritiro poi rende di più e lì stanno in ritiro da due settimane, capito? Perché la cassa la porta, poi sta con gli amici e finisce lì, a una certa ora vanno a letto. Cioè, sembra un giocatore molto più continuo anche atleticamente Neymar, oltre ai numeri che mette sempre in mostra. E detto questo, e a parte tutte le battute, è una squadra che è diventata una squadra. Prima, fino a qualche, anche pochi mesi fa, erano 11 giocatori che si trovavano mezz'ora prima e sembrava che si conoscevano in quel momento. Adesso sono molto più compatti. C'è da dire che hanno, negli anni passati, anche avuto la sfortuna, insomma, di essere accoppiati con delle squadre veramente difficili. poi...